Senti, ma tu ci vieni a giocare su Rust. Ma che cos'è Rust? È un gioco dove si farma, si costruiscono basi e si raidano gli altri, tipo Rust. Ma vuoi giocare insieme a me? No, è che probabilmente facciamo un clan con la Tomodachi, con i ragazzi con cui giochiamo, no? Luca, ma mi aveva appena chiesto che cos'è Rust. Probabilmente, a quanto pare, entriamo adesso. Come adesso? Ma che vuol dire adesso? Non sono pronto, un secondo. Hai scaricato il gioco? No, Dada, non so, fa un cazzo. Io ho scaricato Steam l'anno scorso quando me l'ha detto Dario, ma poi non l'ho mai usato, non so come si fa. Il mouse l'hai attaccato, Luca? Il mouse, sì. Allora, ho provato ieri con Simone, è stata la mia prima, mi ha sverginato lui, la mia prima partita da un gioco col mouse. L'ho fatta ieri, abbiamo fatto a Gario e poi un altro difficile. Pazza, a Gario col mouse, poi è proprio, cioè, esport, eh? Oh, prendi in giro. Ho capito. È la più bella che ho fatto, quando tu dopo sei andato via. Ci siamo divertiti molto, la live in cui mi sono divertito di più è stato. Io non ci ho mai giocato a queste cose online, ho fatto l'unica volta, ho fatto una partita online a Naruto Ultimate Ninja Storm 2, però tutti dopo facevano la combo del teletrasporto fulminio, quello che premi RTLT velocemente, e quindi non era più divertente. Luca? Senti, sono qua perché secondo me è venuta l'ora di abbandonare il personaggio del rincoglionito, che bisogna abbracciare. Dario, sono onesto, sono onesto! Secondo me la meglio cosa è abbandonare questo... No, un po' di più. Dario, Dario, non so nemmeno in live, ti giuro, è così. Cioè, sto io in live, ma sei comunque... Esatto, esatto. E lo sai? Scusa, Luca, te non sai comprare un gioco su Steam. Quindi non è... Ah, quindi proprio non ce l'hai proprio! Non è che non ce l'ho, non l'ho mai fatto, che cazzo ne so! Che è successo? L'ho rimosso dalla chiamata. Aspetta, sul sito non mi fa le credenziali, però ce l'ho sicuro perché... Sul sito, devi scaricare l'app sul desktop di Steam. Aspetta, apri un documento Word. Sì, ragazzi, questa è la più grande sfida dell'umanità. Non mi fa queste cose complicate, dimmelo e basta. Word non mi fare queste cose complicate. No, devi scaricare l'applicazione. No, Luca, non ho più voglia. No, ce l'ho qua, ce l'ho qua sul desktop. Dai, non me lo voglio, no! Non mi lasciare da solo! Ti banno, lo banno dal canale. No, che banni? Dai, questa allora la prendo come la più grande sfida della mia vita. È peggio di mia madre, è peggio più di di mia madre, non è possibile. C'ho quattro nuovi inviti, c'ho quattro inviti. Ma cos'è? C'è il club dell'orologiai. È pronto il club dell'orologiai, ora ci siamo proprio tutti, tutti. Bisogna essere carato e bastone adesso. Gli diamo una ricompensa quando lui compie un'azione singolarmente. Quest'altro c'ha la pasta, mentre si fa queste discussioni c'ha la pasta, avvitata nella pentola. Dio Cristo! Non ce n'è, Luca, sono serio, non esistono link, ma che link? Che devi andare su Steam! Lo banni dal canale, Diego, per piacere. Ma lo banno? Ma perché lo devo bannà? Ho scritto Rust, escono tre giochi uguali. Se uno si chiama Rust, e basta. Se uno si chiama Rust, Sunburn Pack, e se uno si chiama Instrumental Pack, quale sarà il gioco, vero? Se quegli altri si chiamano pacchetti e uno costa 34 euro e gli altri 8 euro e 19... Mossa, 34 è salito. Dai, lo stai facendo apposta, Luca, io non lo sopporto più questo tuo personaggio. Io ci devo pisciare su questo personaggio, perché io l'ho acceso e io lo devo spegnere col piscio. Un po' meno, insomma. Un po' meno, meno. A me basta il pack. No, ragazzi, vado a prendere la macchina, basta. No, calmo! No, dai, dai, dai. Allora, vediamo un po' se riesco a sbannarlo, vai. Mi sa che non... No, mi sa che poi rientrà, non so se l'hai chiccato o bannato proprio. No, no, l'ho bannato proprio, lo devo sbannare. Ciao. Ciao, Luca. Allora, Luca, non hai i soldi sulla carta o non sei riuscito a collegarla? Ho finito, ho provato due carte che... Cioè, sia Paypal che la carta, però l'ho finiti perché l'avevo inviato tutti a Dario e mi ha fatto superare il limite di invio. Non c'entra nulla l'invio con la... Questo mi scrive, guarda, non so se lo condivido schermo così vedi che inserisci i dati. Vai, faccio vedere dati. C'è vedere dati un attimo. Elaborazione. Elaborazione. E mi fa questo non riuscito. Ok, mi vai su Paypal un attimino, Luca, per piacere. E da qua non posso, non so la password. No, da Steam. Vai su Paypal tramite Google, condivisione schermo, Luca. No, da qui non so la password da Google, ce l'ho solo su Mac. E la password quella automatica. Non hai la password di Paypal sul tuo PC fisso. No, ce l'ho solo sul Mac perché non mi fido di Windows. Cioè, non ti ricordi la tua... Cosa, tutti non ti fidi di Windows? Safari, Safari, ti dà una password... Dario, dai, non sei entrato sul mio PC, Dario. Questo è follia. Sono entrato sul tuo PC. Cosa, sono un hacker? Non capisco. Mi stiamo mostrando schermato e non ho toccato niente. Luca, ma come... Ma sei... Quella volta ti ricordi quando ho preso il coso di Your Name che so corso è sotto? Perché dovevo andare dal PC a fare l'acquisto. Sennò io non lo so da qua. O da telefono. È grave. Cioè, qui siamo a livelli proprio gravi. Cioè, proprio... Mi dici sempre così. Per me è tutto grave. Qualsiasi cosa faccio è grave. Eh, eh, Luca, perché ogni cosa che fai ultimamente a livello tecnologico è gravissimo. Te stavi per spendere mille... Ti ricordo, mille e trecent'e euro che poi ti sono stati rubati per una serie da gaming ultimamente. Il mouse... Vuol dire che sono stati rubati? Eh, ma non scommare, era una truffa. L'hanno truffato. Poi, il mouse, vogliamo parlare del mouse... Stavi per cambiare tre volte. Non mi hanno truffato col mouse, mi è arrivato. Eh, però troppo piccino per la mano, lo strusciate. Vabbè, vabbè, ormai va bene. Mi ha insegnato ieri Simone a giocare con il mouse. Ma scusa, ma rompi il cazzo per 34 euro di raste? Ti sei fatto truffa per i mille e trecent'e euro di una serie del merda. No, 700 l'ho pagata. 700. Era una truffa perché ho preso da 700 usata. Facciamo una... Facciamo un passo indietro. Ti ha insegnato Simone a usare il mouse con Agarillo? Dov'è andato? No. Mario è chiudendo la chiamata. Vabbè, ragazzi, io non... Guarderei di nuovo nel boccale pubblico. Ecco, ok, appunto. Luca, cioè, ti ha insegnato... Ma mi puoi sbloccare? Che sennò qua appena sbaglio tasto sparisco sempre. Ma non è che tu devo sbloccare. Ma non è quello. Sei sbloccato, Luca. Sei te che hai chiuso tutto. C'ho i Lockhead, c'ho i Lockhead dappertutto. Non posso neanche scrivere. Va bene. Perché non c'ho mai avuto un computer mio. Quindi non ho mai giocato online. Ho giocato solo con l'Xbox da solo. E la mano. E tipo, gli ho detto, Dada, che io c'ho ancora. Sai che una volta davano tipo Xbox Live Gold e gli ingressi? È estremamente interessante, Luca. Però prendo la pistola se non vai. No! Ma io l'ho detto sempre... Ma perché non mi interessa la monografia? Sul telefono, due links, sul telefono. Non mi interessa la tua monografia videoludica. Vai a prendere questa cazzo di password, Paypal. Addio. Sviene ora. No! Cazzo! Che? C'ho 29,86 euro. Gli date 5 euro, ragazzi. Dategli 5 euro. Gli lo regalo io, questo gioco del cazzo. Dai! Ecco, mi ha dato 25 euro, Ferra. Dai. Gli regalo il gioco. Aggiungi i miei nemici su Steam. Come cazzo lì? Mangaga 96? Perché 69 ogni volta? Mangaga 96? Mi puoi giocare Giulia con noi? Ci mandi Giulia per piacere. È come volpe, c'ha gli esami adesso. È come volpe, come gli universitari d'Italia. Vabbè. Dada. Aspetta, ti sto cercando un Steam. Se c'hai 4 euro e 13 centesimi, te li ridò poi. Ma tu sei, Mangaga 96, non hai Avada, non hai scritto niente nel profilo. Niente, che cazzo c'ho, Dada? L'ho fatto per scaricare quel giorno. Ho fatto Electric Peo 90 tra gli amici su Steam? Sì, lui mi ha fatto, tutto lui mi ha fatto, tutto Peo mi ha fatto, tutto lui mi ha fatto. Accettami l'amicizia. Sì, è accettato. Ok. Aggiungi il carrello. Acquista come dono. Dammi il tuo PayPal che ti do i soldi. No. Però io ho visto oggi un TED Talk dove spiegava che bisogna dare rinforzi positivi, non negativi, per far crescere le persone. Cosa? Dove l'hai sentito? Un TED Talk. Hanno fatto dei test e praticamente è successo che c'era un test identico per due gruppi di persone molto vasti, tipo migliaia di persone. E da una parte a queste persone praticamente gli veniva chiesto di risolvere un compito, solo che se sbagliavano gli toglievano 5 punti. Dall'altra parte non succedeva niente. Le persone a cui venivano tolti i punti, la metà delle persone non è riuscita a finire il compito. Controlla Luca, controlla. Dall'altra parte due terzi ce l'hanno fatta. Quelle persone non hanno mai avuto a che fare con te, sono sicuro al 100%. E' arrivato? Sì, accetto il dono, rifiuto il dono. No vabbè, dai. Dai Luca, io... Dai Luca, dai, ci stai prendendo per il culo, dai. Mi sa che mi hanno chiccato. Non te nessuno stai chiccato. Ah, ok. Puoi entrare nel mio computer, per favore? Che so, mi vado a sentire stupido, non riesco veramente. Luca, c'è una X lì per chiudere la finestrella, ci stiamo passando solo le video. E' una X volte con la freccia! Ecco, fatto. Ah, ok. Ah, ma io non vedevo questa pagina qua. Io vedevo la pagina di Steam. Era sopra. No, no, no. Va bene Luca, va bene. Oh, eccolo là, Rust, il primo. Vavo Rust pulito. Nel frattempo Luca, entra sul Discord e fatti i guetti listare. Così facciamo entrambe le cose. Adesso ti do un link su... Ok. No, te lo metto qua su... E qua, ce l'ho Discord, eccolo. Luca, apri là. La, la, la... Apri Steam. La, la dashboard di Steam. Luca, apri là dashboard di Steam! Dettagli delle... Non muovere la finestra, non la muovere che... Scusa! Riclicca la tendina. Vabbè ragazzi. Perché clicchi tutto? Clicca quello che ti ho detto, la tendina! Dada, mi scrivi? Dada, dai! Che vuol dire? Fino a me mi scrivi, mi hai taccato! Non ti trovavo, non ti arrabbiare sempre, mamma mia. Luca, ti banno davvero? Non ti voglio mai più vedere vita mia, te lo giuro. No, 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 non lo fare di nuovo. Già l'altro giorno mi hai dato del buffone, del clown, del pagliaccio, così per il meme. Ora... Ma che dici? Ma che dici che ti ho dato del buffone? Ma quando? Ti mando le clip. Mi hai dato il pagliaccio del clown l'altro giorno in live. Dario non è... È un po' protagonista, ma non così. Tipo giullare, cioè giullare. Luca, hai scassato il cazzo. Hai scassato il cazzo. Basta. Bella. La mentale continua, Luca. Hai scassato il cazzo. Grazie a te, Simone, che io ho scoperto il gioco online. Agar appunto io. Io ho scoperto... È stato il mio primo gioco online ieri. Ti tengo... Ok, Luca. Luca, ho appena... Non ho mai giocato online in vita mia, per cui lo so, c'ho così tanti problemi. Non l'ho mai fatto. Ok, mi tengo il pacchetto di video. Ho deciso. No. È bellissimo questo, Luca. Sì, grazie a te ieri ho scoperto, ho scoperto sta cosa e tra l'altro la prima volta che ho usato il mouse stavo con te, quindi mi ricorderò sempre nel cuore che la prima volta mi ho scoperto. Quindi hai provato il gioco più giusto? Sì, infatti, oggi gli ho chiesto, mi potete dare il link per giocare con voi? E mi hanno iniziato a... Sono arrabbiati quando gli ho chiesto il link. No, siamo arrabbiati. Prima mi hai detto accetto o rifiuto il dono. Chi è il Divo che si è arrabbiato? Non lo dico perché sennò mi banna da questo canale Discord. Dario Moccia. Simone. Dario Moccia è stato. Sì, mi sono arrabbiato. Non lo posso dire. Sai quanto siamo divertiti? Io e Luca a Giocagar.io e a Cranker.io. Lo sai quanto siamo divertiti? Non puoi immaginartelo. Non puoi. Io l'ho detto ieri apertamente anche a Giulio. Ho detto, è stata la live più divertente che ho fatto da me da fare un show twitch. C'era un filo che ci univa. Cioè, proprio... Perché io non ho mai giocato online con nessuno. Ho detto, cazzo, è proprio bello invece perché... È divertente. A Giulianz non ti viene nulla? Niente. Ah, certo, adesso che è quello che non sa fa, vedi? Aspetta, aspetta, forse... No, 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 Luca. No, lo so io. Non avevo l'occasione. Luca, 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 ti consiglio. Cioè, Mace ti ha detto tranquillamente quello che non va. Fai, vedi? Luca, ti consiglio caldamente di smetterla. Cioè, te le scendi, Luca. Luca, ma sei magico. Sono estremamente serio. Ti consiglio caldamente di smetterla. Scritto su Modded, fai Twitch, devi aspettare un attimino. Cioè, tipo qua, luce ha scritto. Luce ha scritto, non trovo il server. Sto parlando da... Luca. Scusa, prima che interrompessi per sbaglio, Mace, te stavo chiedendo una cosa. Ah, ma ti hai cagato addosso, eh? Da, da, ma posso andare in live? Che sono le otto, se no... Che mo' chiedi a me, Luca? Certo che puoi andare in live, vai! Nel senso, se devo scaricare altre cose, che poi non mi funziona. Non puoi, ma vai live! Non devi scaricarci un cazzo! Non andare live, non si può fare nei giochi online. Comunque non mi fa entrare nel server, quindi... No, 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 ma è... Non sa che l'arrolla, nessuno. Stiamo già a Sea of Thieves, a qualche altra cosa. Ma tutto sto casino per installare sta cosa adesso andiamo via. Luca... Luca... Scarica Sea of Thieves, Luca! Ma... Ma ho avviato adesso, finalmente! Che penso io, Luca, te lo spiego io, c'è Dadoni! Quell'altro mangia un zabaione a cucchiaini! Il bofe! Guarda che bello! La panna, guarda quant'è! Il bovitello! Ma me lo bello, l'ho maniato troppo velocemente, rica! Tutta bavata! Luca! Cioè, guarda che cazzo rola fa! Cioè, Dada... No, la gamba è mia, per... No... Cioè, non te sto a scammare in nessun modo, guarda che cazzo vedo io! E ti trasporta tutte le icone sul monitor... Oh, che metto! Ti porta tutte le icone dal monitor secondario al principale, quando tu metti a tutto... Un monitor, guarda! Faccio vedere l'immagine, così capisco... Calmo, stai calmo, Dada... Calmo, Luca, stai calmo! Stai calmo, Luca! Ma c'è, non muore nessuno, eh! Apri il gioco, mettilo a Borderless e ti risolve questa stronzata delle finestre! Dada! Ce l'ho aperto, ma è tutto tipo allargatissimo e non posso toccare niente! Ok, vai nelle impostazioni di gioco! Mi è sparita la chat! Eh, vabbè, quello può succedere! La recuperiamo, la chat! Vai nelle opzioni e metti Borderless... Sì! Eh, niente, se apro il gioco Dada è un casino! Porco, due! Puoi guardare un attimo la mia live che ti condivido lo schermo? Sì, sì, sì! Sì, apri pure, tanto Dada ti dà volentieri una mano! Luca, ma che cazzo fai? Sì, sì! Premi ESC! Troppo dico, premi ESC! Ok! Adesso... Dada? Dove sono le opzioni? Mi stanno in picciarica, aspetta! Non ce l'ho... Ah, ecco! Dada, dimmi se devo bannarlo, eh! Non ti sta a fare problemi! No, no, no! Ah, perché ce l'hai strecciato! Ah, eccole la! Options! Bravissimo! Option! Non li vedevo! Non sono cliccabili! Guarda, guarda! Fallo con la tassiera! Silenzio! No! Fallo con la tassiera! Vai su e giù sulla tassiera! No! Mettiti fullscreen nella cam! Ok! Fai alt-tab e riapri il gioco, a me si risolve quando fa così! Ah! Io sto vedendo cosa sta facendo col mouse, lo sta usando tipo un telecomando, cioè lo sta sollevando a mezz'aria e sta cliccando il mouse! Ti si è chiuso il gioco o ce l'hai ancora aperto? No, no, ce l'ho ancora aperto, ok! Ma clicca sul gioco e fai alt-tab! Ok, aspetta un secondo! Come va? Se lo prende il gioco! Ma aspetta, l'hai chiuso definitivamente, non l'hai abbastato, l'hai proprio chiuso! Sì, x, x, x! No, no, questo era un altro... No, andava fatta un'altra cosa! Andava solo ridotta d'icona e poi riaperto! Ok, adesso mi si apre in verticale il gioco! Luca! Perché ha abbastato la risoluzione... Ma che cazzo è sta cosa? Ma che risoluzione è? Non esiste al mondo! Non vedo niente! Aspetta, aspetta! Luca, no, no, Simone, perché io ho fatto mettere la risoluzione in più bassa, quindi l'OBS non gliela rileva! Ma tu vedi quello che io vedo? È un casino! Usa la tassiera! Usa la tassiera! Vai giù su Option e premi invio per andare avanti e indietro! Una tassiera! Hai sparito di nuovo! Ma porca! Devo bannare? No, no, fermo! Dimmi prego! Allora... Aspetta, ti sei motuto! Basta chiuderlo! Scusa! Adesso è qua sotto, cosa faccio? Lo apro o no? Apri! Apri! Clicco! Clicca su! Vai, vai, clicca! Ok, ora si è aperto! Però è tutto largo! Ok! Usa la tassiera per muoverti! Ok! Mi friccia della tassiera! Ok, mi metto con la faccia... Sì, ma... Ah, col trackpad! Che cazzo cambia dal mouse? Non c'è... Cambia un cazzo! Sì, le frecce del... Fammi vedere! Devo bannare? Luca, 10 minuti non giochi, ti vissabaccaglia la pia, eh! Vai giù! Mi prego, ma... Cioè... Le frecce! Le frecce! Le frecce! Quelle piccoline che hai! Sono la stessa tassiera tua del cazzo! Le frecce... Sì, quelle lì, quelle lì! Vai giù! Sì, ma non vanno su e giù nel gioco! Non ci vanno! Allora, aspetta, prova... Tab, tab, magari con tab riesci a slidare su... Bravo, sì! No, non è vero... Ma butta quella tastiera! Buttala! Non è stato l'aggranato! Non riesco! Fai alt tab e metti il... Ma ancora? È 10 volte che faccio alt tab, che si chiude tutto! Fai solo tab, fai solo tab! Non dire chiudere! Non ti si chiude un cazzo! Ti si abbassa sotto! Non si chiude nulla! Inglese e italiano, nome tastiera e... Inglese e italiano! No, no, no! No, no! Non è quello che dovrebbe succedere! Dovrebbe aprirsi full screen! Ma già è full screen! Ma quel coglione di Dada ti ha fatto mettere la risoluzione stupida! Ma perché porco tu la gente mi diceva! Stimando in 4k! Ha ha ha! Che W! Metti... Fai alt invio! L'invio è invio! Ma non vi è io! No, Dadeo, no! Di fianco al tuo trackpad c'è il tasto invio! Fremi! Alt invio insieme! Sì, ma adesso lo vedo in verticale! Ok, però funziona! Funziona però, no? Opzioni! Vai, opzioni! Bravissimo! Giovo così! No, no! Ah, ho capito! Ok, funziona, funziona, vedo! Vai su options! Vai su options! Non giocare così! Ma che vuol dire? Ma che sai? Su un telefonino! Non andare a giocare! No, non devi mettere giocati! Devi mettere opzioni! SCREEN! SCREEN! Non vinto capiglia di soluzione! Qua, SCREEN! SCREEN! No, Lario, tranquillo! SCREEN! Metti borderless! No, è exclusive! Perché hai messo ex mode! Metti borderless! Ok, borderless, fatto! Metti 4k e borderless! 4k! Metti 4k! No, no! Metti 4k! No, no, no! Perché c'è armonitor de' merda! Metti 4k! Ah, funziona! No, data, funziona, hai visto? Bastava solo che... Un attimo, Simone, ma aiuta... Grazie mille, Simone! Molto gentile! Ma grazie mille, un cazzo! Te l'ho detto io! Ti invio! Ma Luca, ma vaffanculo! Ma Simone ti usa addosso da tre! E poi a me dici che ti tratta male e lui ti tratta bene! Luca, vaffanculo! È due anni che ti busto! È due anni che ti busto! Cosa? Carmo, carmo! Ma cosa? Tutto! Tutto! Ci ha dato tutto! Tutto! E te mi ingrazi! Via? Due anni che ti busto! Avevi tre spettatori bugozzi! Non ti si inculava di pezza! Adesso sei la sua gallina dalle uova d'ora! Fai cacare! 9 mesi che stremmo, Dario! Non è possibile! Sì, la cazzo! Tutti! Ti conoscono tutti! Mani strema da un mese, Nanni! Via! Si va a letto? Via! No, 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 io stavo solo dicendo che... Che data mi ha fatto... Ma sta allagando o no? No, no! Eh, ma quando Simone mi ha spiegato, ce l'ho fatta, ma perché me l'ha fatta con calma! Non mi pareva con calma! Ma a chi calma si è abituato! Ma perché quella è la mia calma! No, 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 no! Era sicuro! Era sicuro! Non... C'è ogni cosa che ho fatto e conseguito ha funzionato! Ma sei dentro il gioco adesso, Luca, per official mail? Io non ti sto più guardando! No, sono in loading! Loading continuo! Mi sta lodigando migliore! Lodigando! Grazie di verbo! Lodigando! Va bene, però! Va bene che sei loading! Potete fare un attimo silenzio? Che vi sa che c'è un problema tecnico al microfono, lo devo provare! Un attimo, ragazzi, un attimino! Un attimo! Ecco, ecco! Funziona? Sì, 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 funziona, funziona! Tutto a posto, grazie! Tutto a posto!